Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 19 aprile 2016, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV. Allora come sempre cominciamo dal santo del giorno, poi sfogliamo il giornale. Allora il santo di oggi è San Leone Nono Papa, è un santo dell'anno 1000, il sole sorto alle 6.17 e tramonterà alle 19.57, dunque si allungano le giornate, questa cosa ci fa molto piacere anche perché insomma la luce è sempre meglio del buio. Avremo un cielo irregolarmente nuvoloso oggi, soprattutto in mattinate, in particolare nel settore centro-settentrionale per nuvole comuliformi, poi dal pomeriggio invece prevalenza di cielo sereno. Nella prima parte della giornata avremo rovescio temporali sparsi in particolare nel settore centro-settentrionale, i venti sono di brezza tesa con raffiche di vento fresco lungo la fascia costiera. A giudicare dalle prime ore del mattino qui sembra tutto un'altra storia, ma comunque stiamo a vedere. Questa è l'immagine che la regia di Marcelli ci propone. Vedete, c'è in effetti, comincia a essere un po' nuvoloso, anche se c'è questo squarcio in mezzo alle nuvole che illumina una parte della città. Guardate che bello, questa è la città di Fano in diretta in questo momento alle 7.31. Dicevo, andiamo avanti, comunque staremo a vedere. Domani invece, guardate, neanche una nuvola, tutto splendente, sole a catinelle per la giornata di domani, 20 aprile e poi 21 giovedì. Eccola qua, l'immagine con soltanto qualche nuvola qua e là nel pomeriggio. Probabile peggioramento però delle condizioni del tempo nella seconda parte della settimana. Allora, le notizie, le notizie di oggi naturalmente dai quotidiani si concentrano soprattutto sul dopo referendum, in particolare la pagina di Pesaro, eccola qua, in particolare dicevo su quei due paesi piccoli ma che stanno facendo un chiasso incredibile con la loro vittoria, la vittoria di due piccoli paesi, Tavoletto e Monbaroccio, che hanno deciso di restare in autonomia. Stiamo soli, questo è il titolo con la fotografia gigante sulla prima pagina che campeggia sulla prima pagina del messaggero, scusate il resto del Carlino, esulta il comitato del nome, Monbaroccio non sarà incorporata nel comune di Pesaro e Tavoletto fa la stessa cosa con Urbino. Matteo Ricci, cosa dice? Capitolo chiuso. Questa è la pagina di Pesaro, nella pagina interna chiaramente troverete tutto l'articolo e sono quattro pagine. La pagina di Pesaro invece è della messaggero, la fusione freddata, giocando un po' col titolo della fusione fredda, la fusione freddata, giù le prime teste, vincono i piccoli con il doppio no di Tavoletto e Monbaroccio, Gresta si dimette, Vicky invece, il sindaco di Monbaroccio resiste. Ricci e Gambini invece, fermiamo tutto, Ricci sindaco di Pesaro, Gambini sindaco di Urbino. La fusione dunque è stata freddata, scrive il messaggero, un doppio no alle operazioni tra Pesaro Monbaroccio e Urbino Tavoletto, gridato dai piccoli comuni nell'urna del referendum, referendum consultivo, ma dall'esito netto. Sconfitti i sindaci che hanno voluto l'operazione. Per il pesarese Matteo Ricci è un'occasione persa, si ferma tutto qui, però dice e cadono o si esigono le prime teste. Il primo cittadino di Tavoletto, Nello Gresta, si dimette, a Monbaroccio invece Angelo Vicky resiste, ma è sotto l'assedio del comitato del no. A Pesaro è andato alle urne un elettore su tre, ma di quel 34%, quasi il 67%, ha votato sì alla fusione con Monbaroccio. La fiera di Campanara va al regno del bricolaggio, ovvero alla Bricoferre. Questa è una notizia. La fiera di Campanara, la Bricoferre è arrivata allo scadere, un'offerta per l'affitto dei padiglioni ABCE. Si tratta di una società veicolo che fa capo alla Bricoferre, che aveva già manifestato interesse per i padiglioni di questa fiera, che ricorderete all'epoca era una fiera che dava tante soddisfazioni, poi piano piano andata decadendo, però ha manifestato questo interesse per questi quattro padiglioni e dopo un primo bando andato deserto, il canone anno era abbastanza importante, 619 mila euro, la cifra poi era scesa a 284 mila euro, così come stabilito dalla fondazione, eccetera, eccetera. Ieri a mezzogiorno in Campanara di Commercio è stata depositata la busta e tutto alla fine è stata giudicata al Bricoferre. Questa è la pagina di Pesaro del messaggero, apriamo quella del Corriere Adriatico, la pagina del Corriere Adriatico di Pesaro, eccola qua. Invece si occupa degli scarichi in mare, perché? Perché la Capitaneria di Porto ha deciso di avviare un'indagine, accertamenti preliminari, nel video esclusivo, quello trasmesso dalla 7, si riferisce l'ipotesi infatti di materiale radiattivo, questa è la ferma immagine della piattaforma Branda a Largo di Pesaro, gli scarichi a mare invece questi qua sotto, che hanno destato preoccupazione, sono di un'altra piattaforma, la Basil, nel video appunto trasmesso da Piazza Pulita. Le analisi dell'ARPA ma non sono tarate su tali residui industriali, dunque il comandante parla di controlli che finora sono regolari, però attenzione e prudenza, sono queste le coordinate dell'azione della Capitaneria di Porto che hanno attivato dopo l'allarme mediatico per gli scarichi delle piattaforme Eni nel mare Adriatico, che hanno attivato appunto questa indagine da parte della Capitaneria. Poi anche qui sopra vedete sulla pagina di Pesaro del Corriere Campanara acquisita dalla multinazionale Bricofer, la struttura a eccezione dei padiglioni D e F che restano al Comune, diverrà un grande polo logistico. La pagina di Fano invece del Corriere, eccola qua, falliscono il colpo in banca, la cronaca, due malviventi all'assalto della filiale della Carifano bloccati dalla cassaforte temporizzata. Non possono chiaramente attendere l'apertura e dunque se ne vanno a mani vuote simulavano il possesso di un'arma nascosta sotto un giornale, un giornale avvolto attorno ad una mano, insomma ecco, facevano capire che probabilmente sotto c'era un'arma, è un po' modus operandi che insomma, vabbè. Centro storico rischio invece per i ciclisti, centro storico di Fano, l'associazione Ergonauta evidenzia la necessità dei doppi sensi di marcia dedicati, poi sotto la Rincicotti torna a generare fatturato, l'amministratore Ruggeri è ripreso, dice, lo spurgo delle fosse settiche, le nuove immagini e organizzazioni aziendali hanno rilanciato questa attività rispetto alla passata gestione. Ancora dai giornali andiamo di nuovo sul messaggero, ecco qua la notizia sulle fusioni, lo schiaffo dei piccoli Ricci, ora fermiamo tutto, il no di Monbaroccio e Tavoleto blocca la doppia operazione pesarese, Pesaro e Urbino occasione persa, cade la prima testa, Gresta si dimette, in questo caso vedete nella pagina delle Marche del messaggero c'è anche un grafico con i numeri e con le percentuali dei votanti, con le foto dei rispettivi sindaci. Dopo il sì, la curiosità questa pubblicata sul giornale romano, dopo il sì subito a votare, la sposa subito dopo il sì ha espresso un altro desiderio, voglio andare a votare, si è recata alle urne nel seggio di Pedemonte, chiaramente vestita con l'abito nuziale, con l'abito della sposa. Monbaroccio, icona della piccola Italia, siete un esempio, vinceremo anche noi, il fronte del no alle fusioni esulta, Misiti di Sirolo dice che questi sono attacchi eversivi alla democrazia, i prossimi, Maiolati e Rosora, da noi la gente capirà, e a Ripe, Trecastelli, qui sono arrivati più servizi. Insomma si guarda dalle altre parti, insomma come è andata a Monbaroccio e Tavoletto, perché non tutti chiaramente vogliono le fusioni, però qualcuno diceva, non so se l'abbiamo salvato qui sul resto del Carlino, qualcuno diceva, beh sì sì, poi andrà a finire che queste fusioni ce le imporranno per legge e magari anche gratis, adesso invece potevamo forse farle prendendoci qualcosa, sbloccando il patto chiaramente di stabilità. Allora andiamo a vedere adesso il resto del Carlino, storie di animali, salvi i quattro gattini gettati nel cassonetto, pensate, un passante li aveva portati al gattile Oasi Felina di Pesaro, erano piccolissimi, alimentati con un sondino e adottati da una volontaria mamma, prendeteli con voi. Chi li ha buttati via sapeva benissimo che sarebbero morti e quindi andrebbe denunciato. Sotto invece si parla di un cinghialetto che si è fatto degli amici al canile comunale, vedete la cinghialetta di pochi mesi che ha trovato casa il canile comunale gestito dai volontari di Animal House. Storie di animali che come succede nei telegiornali nazionali vengono raccontate anche nei quotidiani perché fanno audience, perché abbiamo quest'anima animalista che fa tanto audience sia nei social network ma soprattutto nei giornali e anche in televisione. Invece nel carcere di Fossombrone c'è stata la visita di tre membri del Comitato Nazionale dei Radicali nella casa circondariale di Fossombrone appunto e hanno detto c'è un buon clima nel carcere di Fossombrone. Questi radicali italiani ieri mattina hanno visitato la casa circondariale di Fossombrone nell'ambito di una serie di ispezioni alle strutture carcerarie marchigiane che li ha visti anche a Fermo, Camerino e Ancona, nonché ieri pomeriggio appunto anche a Pesaro. Bancario sottotiro ma la cassaforte non si apre, due banditi tentano il colpo alla Carifano di via Canale Albani poi fuggono a mani vuote. L'assalto è venuto alle 8.40 di ieri mattina. Non risponde al telefono, era morto purtroppo da giorni, un 84enne nato a Benevento, residente a Marotta dal 1991 in una palazzina di via Brodolini. Poi sotto rotatorie pubblicitarie ex Agip e Rocca. Come è andata a finire? I cantieri annunciati non partono mentre le rotonde lasciate all'incuria si riempiono di erbacce. I lavori al forte Malatestiano potrebbero subire ritardi, manca il progetto dettagliato. E adesso la pagina di Fano invece, del resto del carino per chiudere la nostra rassegna stampa, dal medico a tempo ai contenziosi sconosciuti, i dubbi della Corte dei Conti. Di cosa si parla? Il comune di Fano dal 1994 ad oggi ha reclutato un medico del lavoro assumendolo anno per anno. Secondo i giudici è come se fosse assunto a tempo indeterminato, ma allora serve il concorso perché si tratta di un ente pubblico. Inoltre non esistono dati aggiornati allo stato delle controversie, alcune risalenti a 15 anni fa una tegola che pesa sui bilanci dell'ente e quindi del comune di Fano. Credo di aver letto più o meno tutte quelle che sono le pagine più importanti della nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali dunque torna domani mattina alle 7.30. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona giornata.